Viene convocata a Malmo in Svezia dalla Federazione Italiana Sport Equestri per la sua prima convocazione in nazionale per i campionati europei poni, la Mazzone Mael Bombaci. Sono state bene ripagate le fatiche della Bombaci che oggi viene convocata dal 3 al 9 agosto prossimi per i campionati europei di categoria per portare in alto i colori della nazionale insieme a Caterina Neri, Viola Lucrezia Sansone e Nina Teresa Zennaro, definite dalla FISE le quattro migliori esponenti. Nelle precedenti competizioni che le hanno viste impegnate ad Arezzo ed ancora prima a Lipiza le azzure si sono distinte per classe e risultati ed è proprio a Lipiza, come certamente ricorderete, che la Bombaci ottiene nel Pony Team Test in sella Popcorn il miglior risultato azzurro con il punteggio di 68-162 e con la prova di freestyle Mael Bombaci e Popcorn ottengono un fantastico 69-725 che incorona la giovane Mazzone come la miglior attelata italiana nella sua categoria. Ma i successi non finiscono qui e l'Amazzone siciliana si classifica seconda al concorso internazionale d'Italia nell'impianto di Arezzo con il risultato di 70-917, completando le qualifiche necessarie per il campionato europeo di Malmo in Svezia. Una passione, quella della Bombaci coltivata da quando era bambina, con sacrificio, con piccole e grandi soddisfazioni. Adesso è il momento per tutte loro e per la nostra siciliana di dimostrare all'Europa il proprio talento. A Malmo non sarà certo una sfida semplice, ma una competizione che vedrà i nostri atleti azzurri impegnati nel far conoscere anche all'Europa il loro nome.